Il mio più cordiale bentrovato al pubblico di Talk Sicilia per questo nuovo appuntamento con la nostra trasmissione di approfondimento, la trasmissione di Blog Sicilia che affronta una lunga serie di argomenti che vanno dalla cronaca alla politica passando per i fatti di tutti i giorni che riguardano la nostra isola e non soltanto. Oggi è il nostro ospite in studio il professore Sebastiano Bavetta, ordinario di economia politica dell'Università di Palermo. Buonasera, grazie per essere qui con me, professore Bavetta. Voi vi chiederete perché un professore di economia? Allora faccio una breve introduzione per spiegare i motivi che ci portano a questa trasmissione. Quando parliamo di economia quasi sempre, un po' per molti di noi se non addetti ai lavori, si parla di qualcosa di astruso, di lontano, di a volte anche noioso a secondo chi lo dice o lo ascolta. Di fatto però l'economia è la base di tutto quello che poi riguarda la nostra vita di ogni giorno. Comprendere l'economia significa anche prevedere per quanto è possibile nel piccolo, nel breve termine quello che succederà nei nostri mercati, quello che succederà per le nostre strade, quello che succederà anche ai nostri negozi o al prezzo del pane. Sto dicendo delle cose che possono sembrare banali o sciocche, ma di fatto è così. Allora per questo motivo abbiamo sentito l'esigenza nell'ambito dell'offerta di informazione di Bloc Sicilia e non soltanto dell'intero gruppo, parlare anche di economia, ma vorremmo farlo in maniera che questi contenuti siano per tutti. Almeno questa è l'idea. Ma da cosa nasce questa esigenza? Adesso lo chiediamo proprio al Professor Bavetta che insieme al collega Nino Amadore sta per lanciare una nuova trasmissione che vedremo nei prossimi giorni su questi canali. Professor Bavetta, da cosa nasce questa esigenza? Innanzitutto grazie per l'invito e per me è un piacere essere qua con voi. L'esigenza di parlare di economia nasce dal fatto che, come tu hai detto un istante fa, pervade, se mi permetti questo termine, l'intera nostra vita, ma lo fa in una maniera molto più ampia di quanto non sia stato detto nella tua descrizione. Perché l'economia anzitutto è una scienza comportamentale che analizza le scelte degli individui, di qualsiasi tipo esse siano. Noi siamo abituati a pensarla come una scienza che si occupa della finanza, dei soldi, delle circostanze che talvolta appaiono aride e sterili. Invece è una scienza che si occupa del comportamento delle persone e in quanto tale è una scienza che contiene anche al suo interno i valori che le persone hanno quando mettono in atto delle azioni. Quindi contiene molto di più del perseguimento dell'interesse, del perseguimento del profitto. Contiene appunto tutta la dimensione valoriale e caratteriale di un individuo e della società nella quale egli vive. E studiarla è importante perché ci permette di comprendere meglio quali siano le, non solo le opportunità, ma quali siano il modo in cui possa evolvere una società e la maniera in cui essa possa raggiungere la prosperità. E ci consente di togliere di mezzo alcune credenze molto diffuse che attribuiscono valore a talune scelte anche di natura politica che possono essere importanti per migliorare le condizioni economiche di una società, ma che in realtà non sono, secondo la scienza economica, necessariamente di successo. Quindi diciamo c'è un tema molto ampio che si ha. Quindi parliamo di scienza, di una scienza, ma parliamo anche di una scienza che ha, come dicevo, influenza quotidiana sul nostro vivere quotidiano, una scienza che ha influenza su ciò che compriamo, su ciò che vendiamo, una scienza che ha influenza sulle scelte che ognuno di noi fa per la sua vita in questa terra o per chi decide di andare fuori, per chi decide di andarsene. Tutte queste cose parliamo di scienza, ma in realtà parliamo di vita quotidiana di tutti i giorni. In tutto questo dunque dicevo, accennavo nella mia introduzione, ci occuperemo in questo nuovo format di informazione, anzi forse anche di divulgazione, che lanciamo dalla prossima settimana da questi canali, che si chiama Punto Zero. Sarà il collega Nino Amadori a condurlo insieme al professore Bavetta che farà le sue analisi e dunque perché Punto Zero? Io partirei da una parola che hai appena detto divulgazione. È una scienza che ha bisogno di essere conosciuta, ci sono tanti modi di conoscerla, una maniera di conoscerla è quella di studiare i libri di testo, una maniera più divertente, anche più semplice, anche più aperta alle persone è quella di invece cominciare ad analizzare i comportamenti delle persone, degli individui che operano nella società e cercare di interpretarli alla luce dei loro interessi economici e dei loro valori economici in un senso ampio. Quindi Punto Zero è il punto di partenza della interpretazione di tanti fenomeni sociali attraverso gli strumenti che offre l'economia. L'economia Punto Zero è anche il punto di incontro degli assi secondo quella che è il modo di vedere più tecnico. Nei grafici che studiano i miei studenti. Esattamente, però ecco intanto mentre noi parliamo vediamo scorrere alcune immagini delle prime puntate che abbiamo già realizzato e che vedremo dalla prossima settimana di Punto Zero. Vedete c'è una grafica che sta alla base di questa scenografia e i grafici, alcuni dei grafici di cui stavamo parlando che sono alla base di queste spiegazioni. Diciamo dunque Punto Zero è questo, questo punto di partenza, questo punto di incontro. Ma cosa si prefigge di raccontare Punto Zero e come pensa di raggiungere l'uomo comune? Allora, il tema è sempre partendo dall'idea della divulgazione. Il tema è il seguente. Tu hai di fronte tutta una serie di fenomeni che osservi e per i quali talvolta hai anche il desiderio di apportare dei correttivi o di provare a trovare delle soluzioni perché i fenomeni che osservi non sono necessariamente quelli che tu desideresti che si verificassero nella tua società. Pensa per esempio, come è capitato in una conversazione avuta con Nino in una di queste puntate, al tema del fotovoltaico in Sicilia e delle infiltrazioni della criminalità organizzata dentro questo settore economico. Certamente una delle maniere più note e più condivise dalle persone è quella di combattere questi fenomeni di infiltrazione attraverso l'azione legale, l'azione di polizia. Ma l'economia ti insegna che hai, e viene detto in una di queste puntate, strumenti più raffinati. La mafia o comunque la criminalità organizzata per gli economisti è una forma di cartello, cioè il tentativo di garantirsi dei rendimenti superiori nel mercato a quelli che si possono realizzare in presenza di competitività, eliminando i tuoi concorrenti alla base, impedendo che essi possano entrare nel mercato. Se tu sei capace di, usando questa interpretazione, modificare le regole imponendo concorrenza, come facciamo vedere in una di queste puntate, scopri che effettivamente metti la mafia in difficoltà. Questo è semplicemente un esempio, quindi fare economia e farlo in un certo modo significa anche mettere in difficoltà la criminalità organizzata, perché anche quella è una forma di... Favorire la competizione significa mettere in difficoltà la criminalità organizzata, perché per gli economisti la criminalità organizzata è una forma di rendita, una forma di monopolio, una limitazione all'ingresso nel mercato di concorrente. E noi sappiamo, abbiamo sentito parlare più volte, che il monopolio è comunque un problema per i consumatori, perché tiene i prezzi molto più alti di quanto non faccia la concorrenza, quindi l'economia ci aiuta a creare le regole che sono utili per abbassare questi prezzi e quindi creare le condizioni anche per eliminare gli interessi, diciamo così, illeciti e criminali all'interno del funzionamento dei mercati. Quando parliamo di economia spesso pensiamo anche alla politica, le due cose sono in qualche modo connesse, anche se le scelte amministrative più che politiche nel senso stretto sono connesse, sono comunque influenzate dai valori economici. La politica è un po' anche il mio pane quotidiano e quando io racconto dei bilanci della regione piuttosto che delle scelte che vengono fatte nelle stanze dei bottoni, dico sempre che è importante anche per l'uomo della strada conoscere quello che avviene in quei palazzi, perché da quelle scelte dipendono poi cose che ci riguardano tutti i giorni, è un po' la stessa cosa. Diciamo così che il rapporto tra economia e politica è molto interessante e non è un rapporto facile, anzitutto l'economia è la scienza delle scelte fatte dagli individui in condizioni di scarsità, da quando abbiamo lasciato il paradiso terrestre, Maglio purtroppo non possiamo avere tutto, qualcosa dobbiamo rinunziare. Siamo arrivati con una mela. Esattamente, anzi anche meno perché è stata pure morsicata, come bene sa Steve Jobs, che l'ha usata come simbolo dell'Apple. Ma il vero tema è che in presenza di scarsità tu ho qualcosa che devi rinunziare. La politica, dicono gli economisti, invece è la scienza che cerca di eliminare il problema che sta alla base dell'economia, cioè la scarsità. E questo rende inevitabilmente in conflitto queste due scienze. Detto questo, il vero tema, a mio modo di vedere, il rapporto tra la politica e l'economia è quello di trovare un bilanciamento diverso, soprattutto in una società come la nostra, che è in qualche modo una società in cui la politica ha un ruolo preponderante, e cominciare a rendersi conto che molto spesso le politiche economiche non servono necessariamente gli interessi della società, ma servono gli interessi di gruppi di interesse appunto. E che quindi l'economia ci aiuta a capire meglio come queste politiche economiche possano essere di aiuto al superamento di conflitti sociali e alla creazione di prosperità. In questo senso, se mi permetti, c'è un'interessante puntata che abbiamo preparato con Nino sull'inflazione, in cui c'è uno di quei casi in cui effettivamente le politiche hanno generato un benessere per la società. L'inflazione colpisce in maniera diversa i cittadini in funzione dei loro livelli di reddito. Tipicamente colpisce di più le persone con livelli di reddito più basse. E noi facciamo vedere in questa puntata come gli interventi fatti dal governo italiano negli anni immediatamente successivi all'esplosione inflattiva che abbiamo osservato recentemente abbiano contribuito a ridurre l'onere del costo inflazionistico sulle famiglie a reddito più basso. Quindi non tutte le politiche sono necessariamente delle politiche che sono in contrasto con l'economia, ma l'economia ci insegna che non sempre noi dobbiamo contare sulle politiche molto spesso. Se vogliamo raggiungere più alti livelli di prosperità è meglio che contiamo sulle nostre risorse, sulle nostri sforzi di creare effettivamente questa prosperità. Uno degli altri grandi temi legato all'economia, almeno nell'immaginario collettivo, è quello del lavoro. D'altra parte il lavoro ed economia vanno a braccetto senza un gettito economico, non c'è lavoro, viceversa senza la produzione che viene dal lavoro non si può ottenere un gettito, almeno in alcune categorie del mondo della produzione. Assolutamente, anche in questo l'economia ha diverse soluzioni e delle proposte che possono essere fatte per migliorare le condizioni del mercato del lavoro. In una tra delle nostre puntate parliamo appunto di una di queste proposte e andiamo a recuperare un'ipotesi, un provvedimento che fu fatto allora dal governo Renzi che per gli economisti è stato una delle iniziative più di successo nell'ambito delle politiche attive del lavoro che è il reddito di inclusione, che legava a determinate caratteristiche degli individui la disponibilità di accedere a forme di sostegno al reddito, legandole però, connettendole però direttamente con percorsi di reintroduzione, reemissione nel mercato del lavoro. Quindi anche lì l'economia ci aiuta a disegnare soluzioni a questi problemi che non sono necessariamente allineate con quello che sono le volontà della politica e questo ci permette di essere migliori cittadini perché ci dà la possibilità di leggere meglio, di interpretare meglio dove ci sta portando la politica. Quindi ancora una volta punto zero può essere un elemento per comprendere in che mondo siamo, dove sta andando e quali debba essere il nostro punto di vista su questo mondo. Però io adesso entro a gamba testa perché il mio mestiere è quello del giornalista, non posso fare almeno di fare le domande, le domande quelle forse che anche inaspettate anche che non sono previste, non ci sono armi assolutamente, qua non si fa guerra, l'unica arma è qui, è la penna. Detto questo, nel momento in cui mi parli caro Sebastiano del reddito di inclusione a me viene da pensare a un altro reddito, il reddito di cittadinanza e mi viene da domandarmi ma è stata una misura economicamente valida o no? Allora c'è una grande discussione tra gli economisti sulla validità di forme di sostegno al reddito indipendente da meccanismi di inclusione nel mercato del lavoro come il reddito di cittadinanza. C'è una schiera di persone che sostiene che taluni livelli di base, cioè il cosiddetto basic income, il reddito di base garantito a tutti sotto ogni circostanza, sia una soluzione ai problemi della povera. Scusami se ti interrompo ma abbiamo delle esperienze nell'Europa del Nord in cui ha funzionato un sistema del genere oppure no, ho ricordo male. Ci sono delle esperienze dove in qualche modo questa cosa sembra aver funzionato meglio che in Italia, però dire ha funzionato dipende da qual è l'obiettivo che volevi raggiungere. Anche lì l'economia ci dice che dobbiamo settare obiettivi che sono effettivamente credibili e realizzabili, non possiamo noi pensare di poter cambiare il mondo con la bacchetta magica. È una scienza empirica e molto concreta in questo senso. Certamente per funzionare occorre che anzitutto il livello di reddito distribuito sia molto più basso di quanto non sia stato fatto in Italia e poi c'è un problema che è quello che comunque deve in qualche modo aiutare al reinserimento nel mercato del lavoro e qui il tema in Italia è reso più complesso che in altri paesi dal fatto che noi abbiamo grosse differenze territoriali sui mercati del lavoro tra le regioni. Mercati del lavoro che peraltro non sono gestiti come dovrebbero essere da uffici pubblici che siano efficaci ed efficienti nel reperire un lavoro per le persone che lo vanno a chiedere. Certo, questo attiene all'organizzazione di queste strutture statali o regionali che hanno il compito di facilitare l'ingresso delle persone nel mercato del lavoro, ma il primo problema è che comunque le caratteristiche del mercato del lavoro sono molto diverse tra le regioni italiane, per cui le probabilità di successo di iniziative come il reddito di cittadinanza finiscono per essere in qualche modo legate a creazione di condizioni di dipendenza dove il mercato del lavoro non esiste e questo potrebbe essere un problema, anche lì l'economia è un modo per studiare queste conseguenze. E per magari cercare di comprendere un modo migliore per applicare in futuro strumenti come questo o di altra natura. Lo scopo finale alla fine dovrebbe essere questo, comprendere come questi strumenti sono andati anche per noi può essere utile e quindi mi viene subito in mente un altro tema che se non vado errato avete trattato in un'altra delle puntate già pronte di Punto Zero che vedremo nei prossimi giorni, ovvero quello della burocrazia e dell'incidenza di quello che è l'amministrazione, la capacità amministrativa sul territorio e sull'economia territoriale. Assolutamente, c'era un grande premio nobile americano che io ho avuto la fortuna di conoscere che si chiamava Jim Buchanan, il quale ha studiato a lungo i problemi del funzionamento della burocrazia e il modo in cui questa incide sul funzionamento dell'economia e ha sostenuto con dovizie di analisi teoriche alle quali poi sono seguite numerose interpretazioni anche empiriche, raffinamenti empirici delle sue teorie, che è che la burocrazia tende ad espandersi. Quando tu crei un ufficio, questo ufficio è naturalmente portato a diventare più grande, ambizione umana in un certo senso ci sta che sia così. E questa espansione degli uffici e della burocrazia non sempre genera i risultati che noi vorremmo, nel senso che alla fine l'ufficio fa più i propri interessi che non gli interessi della collettività. Non esiste in questa interpretazione economica uno stato giusto che possa incarnare valori che vanno bene per tutti. Torniamo al discorso di poco fa, l'economia è la scienza delle scelte individuali basate sui propri valori, quindi in qualche modo è una scienza che studia come il comportamento individuale, ispirato dai valori che ci guidano, determina conseguenze sociali. E non è detto che sebbene l'ispirazione possa essere la più favorevole, i risultati siano necessariamente quelli che restereremmo. Questi sono soltanto alcuni degli argomenti che Punto Zero ha già cominciato a analizzare, a sviscerare e sui quali porterà nelle prossime puntate, lo ripeto ancora una volta, che vedrete a partire dalla prossima settimana, a portare delle analisi, dei numeri, delle cifre, delle idee. Ma chiaramente sono soltanto alcuni questi argomenti. Avete già, state già guardando a quelli che saranno i prossimi argomenti da proporre a chi ci seguirà, a chi sceglierà di seguire anche questo nostro approfondimento sul Punto Zero? Assolutamente sì, abbiamo una rotta in mente. La rotta è quella di presentare un valore economico importante. Il reddito si produce, non si guadagna. E quindi uno dei temi importanti che vanno messi in evidenza e che nelle prossime puntate tratteremo è quello della imprenditorialità, della capacità appunto di creare le condizioni per la produzione del reddito. Perché produrre il reddito e guadagnare il reddito non necessariamente coincido. Sono due argomenti che possono andare nella stessa direzione qualora sono correttamente messi in pratica. Quando sono correttamente messi in pratica purtroppo diciamo così spesso il tentativo è di guadagnare il reddito non necessariamente di produrlo e a quel punto il guadagno del reddito di parte di un individuo finisce per essere un'attività redistributiva a danno di tutti gli altri. Quindi la società potrebbe avere anche da ridire. E qua interviene anche la cultura popolare. Quando si dice in buona sostanza lo stipendio è un diritto e il lavoro si paga a parte. In modo di dire, molto palermitano è un po' questo quello che può capitare nella distorsione di questa. Ed è questo proprio, hai colto perfettamente, è questo proprio ciò che noi vogliamo, questa forma di cultura economica che noi vogliamo mettere al centro di questo programma. Cultura economica che serve appunto a vedere i fenomeni economici e le scelte economiche che siano individuali e che siano scelte di polisi dal punto di vista dei loro effetti economici in maniera scientificamente, come dire, valida. E noi abbiamo alla fine anche un'ambizione, un'ambizione di questo giornale, anzi sono certo un'ambizione anche di questa trasmissione di Punto Zero che è quella di essere anche da supporto, di offrire conoscenza anche alle nuove generazioni. Perché creare una cultura economica che sia anche una cultura sociale diversa sicuramente lo si fa guardando alle nuove generazioni. Qui sfondi una porta aperta. Io diciamo sì, le nuove generazioni le vedo ogni anno tra i banchi dell'Università di Palermo e sono affascinanti. Sono affascinanti, è una generazione con la quale è difficile confrontarsi perché è molto diversa dalla nostra, ma è una generazione che ha delle opportunità incredibili. Secondo me anche loro, leggendo i fatti con più attenzione e soprattutto con gli strumenti dell'economia hanno la possibilità di fare scelte molto più avvedute e di sfruttare al meglio l'enorme quantità di opportunità che noi non abbiamo avuto in queste dimensioni e che invece oggi sono disponibili. E a questo punto ti faccio uscire un attimo da quello che è il mondo scientifico, se così mi permetti e ti chiedo, ma tu che sei a contatto con le nuove generazioni quotidianamente, annualmente, poni veramente fiducia in queste nuove generazioni? Assolutamente sì, assolutamente sì. Pongo enorme fiducia in queste generazioni che hanno sollevato problemi importanti dai problemi dell'uguaglianza dei diritti di genere ai problemi ambientali che non erano presenti nella realtà che noi abbiamo vissuto quando eravamo giovani, ma soprattutto chiedo loro di essere molto motivati e attenti a non farsi trascinare dal fatto che la disponibilità enorme di opportunità finisca per essere un elemento che li faccia impegnare meno di quanto invece non devono impegnarsi per avere successo in una società che oggi è diventata estremamente competitiva. Ed ecco la sfida che lanciamo da Bloc Sicilia, da Torx Sicilia con Punto Zero che per assurdo è quello di parlare di scienza economica, parlare in modo che sia comprensibile a tutti e rivolgendoci addirittura anche alle nuove generazioni che sono forse quelle più difficili a cui fare arrivare un messaggio. Questa è la sfida, questa è l'ambizione. Grazie a Sebastiano Bavetta che è stato con noi. Grazie a te Maglio, grazie per l'invito e per la piacevole conversazione. E grazie soprattutto a voi che ci avete seguito e vi invitiamo non soltanto alla prossima puntata di Torx Sicilia ma soprattutto alla prima e alle successive puntate di Punto Zero. Dalla prossima settimana, arrivederci. Arrivederci.